Da Siracusa andiamo a Mantua, da il falcone di Asolo. La mia opera si chiama L'Energia Funti dal mare, è una lampadina a forma di madre che porta in grembo l'energia, che è il bambino, e che nasce proprio dal mare. Prendiamo a scuola. Grazie mille, complimenti. Grazie, grazie. Veramente questo appenamento è una bella intenzione. Grazie.